Contini nel trovare un compagno, poi preferisce effettuare un lungo lancio Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia! Cosa abbiamo visto amici? Straordinario Quagliarella! 50 metri, non lo so, traversa piena! Applausi a scena aperta! Traversa e linea di porta, palla che è sbattuta sulla traversa e sulla linea di porta Solo Fabio Quagliarella poteva fare questo Grazie, grazie Che in giocata!